C'è allarme a Roma sulla questione degli ulivi salentini malati. La paura al Ministero delle Politiche Agricole, dove si è riunito il Comitato Fitosanitario Nazionale, è che la xylella fastidiosa, il batterio che da mesi sta uccidendo tantissime piante nella parte ionica del Salento, possa rapidamente diffondersi nelle campagne di tutta la Puglia e non solo. I tecnici del Ministero, insieme al responsabile del Servizio Fitosanitario Pugliese, Antonio Guario, nel corso di un incontro a porte chiuse e durato un'intera giornata, hanno ipotizzato una contaminazione che potrebbe riguardare anche le altre regioni del Paese. Un caso nazionale, insomma, per il quale occorre prendere immediatamente provvedimenti. Misure da adottare con molta attenzione, ha spiegato Guario, perché ci si trova davanti a un parassita nuovo, di cui non si conoscono ancora tutte le caratteristiche. Il primo passo, secondo la normativa nazionale e comunitaria, è quello di delimitare l'area colpita, lavoro che in Puglia è già stato avviato dai tecnici. Adesso, se ne è parlato al Ministero, c'è da definire l'area tampone. Bisogna capire, cioè, se il batterio si è diffuso altrove e come lo sta facendo. Occorrerà, ha sottolineato Guario, subito avviare una serie di studi per capire come si muove, attraverso quali insetti e quali siano le piante che lo ospitano. Per fortuna, almeno questo, non ci sono rischi per l'olio. Sui dettagli degli interventi e sui tempi, comunque, si sta ancora discutendo. Per questo, l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni, incontrerà nelle prossime ore il Ministro dell'Agricoltura, Annunzia De Girolamo, e i tecnici del Servizio Affito Sanitario Nazionale, per avere maggiori notizie su quanto si intende fare in Puglia per debellare il batterio killer.